Sì, è ormai conclusa, si sta per concludere la prima giornata del Milano Ai Caidetti. Siamo nella sala di audiograffiti, c'è anche un'interessante novità. Raccontaci subito qualcosa, intanto, di questa prima giornata che cosa mi vuoi dire? Allora, è stata una giornata molto positiva e abbiamo visto tante facce nuove, ragazzi giovani, interessati. Per quanto riguarda audiograffiti, quest'estate abbiamo intrapreso questa nuova avventura con KIAudio e siamo molto contenti, è un diffusore attivo, quindi un prodotto piuttosto nuovo. Lascerò poi a Bim di KIAudio che vuoi con noi raccontare magari qualcosa di più tecnico. E, che dire, la giornata è volata, è stato veramente un susseguirsi di musica, emozioni, vedere i nostri clienti, insomma, vedere gente interessata proprio al mondo della musica, cosa che secondo me, rispetto agli altri anni, c'è stata un'affluenza maggiore. Bene, questa è senz'altro una buona notizia, quindi grazie, buon proseguimento di serata e auguri anche per la giornata di domani. Grazie, grazie mio.